Benvenuti al nuovo appuntamento del TG Web LIS del Consiglio regionale di Basilicata. Eccessi di mortalità nelle aree di inquinamento più alto rispetto a quelle di inquinamento più basso, del 24% nelle donne per il complesso delle cause di morte, del 63% per malattie del sistema circolatorio per le donne e del 25% per i maschi. E' quanto rilevato nello studio per la valutazione di impatto sulla salute a Vigiano e Grumento Nova presentato dal dirigente del CNR Bianchi alla terza commissione. Lo studio ha segnalato una prevalenza di sintomi più elevata, ha detto, per i residenti nelle zone vicino al centro Oli, ma lungi da noi da stabilire un rapporto di causa-effetto, come segno di attenzione verso la popolazione e per rendere effettivo il principio di trasparenza, ha annunciato il presidente Robortella, l'audizione è stata pubblicata sul sito web dell'ente. Per il consigliere Perrino è necessario che su questioni così delicate e di grande interesse pubblico vi sia estrema chiarezza e informazione. La gente è stanca di essere presa in giro. Riaprire il centro Oli è stato azzardato. Per Sant'Arsiero i dati non consentono di parlare di allarme né del nesso causa-effetto, ma di una possibile connessione tra inquinamento ambientale e rischio sanitario. A suo parere, occorre chiedersi se la situazione che emerge dallo studio è tale da poterci indirizzare verso norme più restrittive rispetto alle emissioni. Per dare un segnale di attenzione ai sindaci, la Corazza ha proposto di convocare una riunione straordinaria della terza commissione nel comune di Vigiano, mentre Romaniello ha chiesto perché il presidente della regione ha detto di non sapere nulla, perché l'Istituto Superiore della Sanità non ha sentito il dovere di trasferire i dati alla regione prima della decisione di riapertura del Cova. La regione Basilicata ha espresso la totale contrarietà alla individuazione sull'intero territorio lucano di un sito per l'ubicazione del Deposito Nazionale di Scorie Radioattive per ragioni ambientali, naturalistiche, economiche e sociali. Lo ha detto in terza commissione la dirigente generale del Dipartimento Ambiente Santoro. 170 autobotti in viaggio ogni giorno dal centro olio di Corleto-Perticara a Roma e Falconara Marittima. Di fronte a questo scenario, possibile se la Puglia non autorizza l'uso dell'oleodotto per Taranto, il consigliere Rosa chiede quale posizione ha assunto il governo regionale lucano, se ha valutato i rischi ambientali e per la sicurezza stradale connessi a questa modalità di trasporto del greggio. Pittella venga a parlarcene in consiglio. È un atto di trasparenza dovuto ai cittadini. Una modifica allo Statuto per dire chiaramente che i consiglieri siano eletti a soffraggio universale diretto mediante liste provinciali di candidati e prevedere quindi l'abolizione del cosiddetto listino regionale. La proposta è la proposta dei consiglieri Napoli e Castelluccio, proposta anche l'istituzione obbligatoria del premio di maggioranza che, in assenza del listino, dovrà fare esclusivo riferimento alle liste provinciali. La riscoperta delle bellezze naturali e storiche della Basilicata è l'itinerario scelto dagli emigrati lucani nella città argentina di Lanus. Il turismo di ritorno è lo strumento che permette a tanti emigrati di riscoprire la Basilicata e mantenere un rapporto con la terra d'origine, ha detto il Presidente Mollica. Anche per rianodare i fili delle storie dei lucani nel mondo, ha detto il Presidente della Commissione Pace, che sono i veri ambasciatori dell'operosità e della identità della Basilicata nei paesi dove vivono. Il quinto numero di Appennino, rivista di cultura ed arte, edita dal Consiglio regionale, è stato presentato nello stand dell'emittente televisiva TRM alla Fiera del Levante. Alla trasmissione hanno partecipato il Presidente dell'Assemblea Mollica e due dei direttori editoriali, gli scrittori Nigro e San Martino. È tutto, grazie per l'attenzione prestata. L'appuntamento è alla prossima edizione.